Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti pistacchi e nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, farina di pistacchi, zucchero semolato, lievito per dolci, vanillina, burro, uovo, scorza di limone, per il ripieno nutella e granella di pistacchi per decorare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone. Reazioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10. riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la farina di pistacchi, la farina, la vanillina, il lievito, l'uovo e il burro. Reazioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5. Il composto è pronto, formiamo un panetto, trasferiamolo nella pellicola trasparente e riponiamolo in frigo per almeno un'ora. Abbiamo ripreso il composto dal frigo, adesso formeremo i nostri biscotti. Prendiamo una parte dell'impasto, formiamo una pallina, passiamo nella granella di pistacchi, facendo un incavo e lo posizioneremo in una teglia rivestita con carta da forno e continuiamo così per tutto il resto del composto. Adesso li andremo a cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti circa. I nostri biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare e subito dopo farcirli con la nutella. Biscotti, pistacchi e nutella. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!